Col paccio dello spoltore che ferma la Virtus Cupello, la capolista perde l'imbattibilità dopo sette vittorie consecutive. La formazione di Del Gallo parte subito a testa bassa, ci prova il classe 2004, De Vincentis, la sua conclusione viene fermata dal portiere ospite. Al quindicesimo minuto si vede la Virtus Cupello, cross di Berardi dalla sinistra, Troiano di testa, manca il bersaglio grosso. Minuto 19 punizione velenosa di Napolitano, in due tempi Palena sventa la minaccia. Al minuto 29 i padroni di casa recriminano per un presunto calcio di rigore, non fischiato dal direttore di gara Cerea della sezione di Bergamo. Sparvoli viene fermato, l'arbitro fa proseguire. Al minuto 38 ci prova Collitto dai 25 metri con i pugni, Palena sventa. E con le immagini montate da Mario Giacchetta passiamo alla ripresa. Quinto minuto, Cupello in avanti, Collitto, ma Palena c'è. Sesto minuto sventagliata di Belli per il solito Sparvoli. Controllo, tiro di Vincenzo però è reattivo. Continua la sfida tra Sparvoli e Di Vincenzo. Minuto 18 la conclusione del numero 10 viene fermata ancora una volta dal portiere ospite. Nuovamente il 10 spoltorese protagonista al minuto 22. Apertura di Di Renzo. Sparvoli si accentra, prova il tiraggiro che però finisce fuori di poco. La superiorità dello spoltore si concretizza al minuto 36. Di Camillo pesca splendidamente il neo entrato Colecchia che di sinistro batte Di Vincenzo per l'1-0. La Virtus accusa il colpo, passano 60 secondi e Di Renzo la palla buona del 2-0 ma si erge ancora protagonista di Vincenzo. E la partita si conclude al 45esimo. Contropiede micidiale Di Renzo lancia a campo aperto Sparvoli che entra in aurea, supera il portiere ospite e deposita la sfera in rete per il 2-0. La gara si conclude qui con i giocatori di casa che fanno festa sotto la tribuna occupata dai tifosi. Mister, si ferma dunque questa scia positiva del suo cupello che oggi qui a Spoltore perde la sua prima partita stagionale? Prima o poi doveva capitare, è capitato oggi e oggi abbiamo fatto molta fatica ma io temevo questa partita, lo sapevo. Voglio fare i complimenti allo Spoltore perché comunque ha avuto più fame di noi e questo è stato il risultato finale. Noi facevamo fatica specialmente sulle seconde palle al primo tempo ad accorciare e quindi abbiamo sofferto. Poi siamo rientrati, paradossalmente quando abbiamo preso il gol abbiamo avuto 7-8 minuti dove abbiamo cercato di creare qualcosa però poi c'è stato il secondo gol e la partita è finita. Ai ragazzi posso dire di rialzare la testa, non è successo niente, prima o poi doveva succedere, anzi adesso forse ci siamo levati sto dente e ripartiamo più forti di prima e di nuovo complimenti allo Spoltore. Grazie mister, grazie ancora. Mister nonostante le temperature non proprio estiva, Manica Corti che la dice lunga su come è andata questa partita? Ma no, siamo stati bravi, sono contento per i ragazzi perché hanno fatto una partita meravigliosa. Chiaramente abbiamo recuperato qualche elemento come Hernan Zazas e c'è la solidità lì dietro e poi abbiamo scelinato secondo me una grandissima prestazione. Ripeto, sono molto molto contento per la squadra e per la società che ci teneva tanto a benfigurare pure questa partita. Dopo la partita di Giulianova non era semplice rialzarsi e l'avete fatto soprattutto contro un cupello che non è l'ultimo arrivato? Sì, noi abbiamo una squadra che gioca sempre con 5-6 fuori quota quindi ci può stare magari una partita sbagliata come quella di Giulianova. Ripeto, lì c'è stato anche il merito del Giulianova che anche oggi so che ha vinto e che quindi va dato merito a loro e ai miei ragazzi che condivano a credere in quello che stiamo facendo.